Siete tornati da poco da Amatrice e già poi dopo state per ripartire, quindi gli impegni sono tanti ma innanzitutto come va? Ma direi che va bene, adesso noi siamo tornati sabato notte e quindi in queste ore ci sono servite anche un po' riprenderci fisicamente e psicologicamente perché ne avevamo bisogno dopo dieci giorni di quel che abbiamo passato, è chiaro che il segno era restato. Va bene, nel senso che stiamo continuando a seguire e a supportare comunque il campo dove sono restati altri nostri colleghi di Ampas dove il segno credo che abbiano dato l'impronta bergamasca, rimanga e sia apprezzato da tutti, infatti tutti ci dicono quello che normalmente viene fatto in un periodo di tre settimane, quindi con tre campi successivi, noi in dieci giorni l'abbiamo portato a termine quindi non solo realizzazione del campo vero e proprio con le strutture ordinarie, quindi cucina, tende, bagni, doccia e via dicendo ma con l'attivazione di servizi che guardano particolarmente al sociale e ai bisogni della gente quale la lavanderia da campo, quale la struttura protetta per i bambini, quale il servizio psicologico continuo e permanente nel campo e l'ultima cosa che abbiamo lasciato e realizzato è stata una struttura dedicata al sociale ma soprattutto alla terza età perché il problema della terza età è grave ed importante quasi quanto quello dei bimbi Santus sappiamo che lei ha già pronta la valigia Sì, sì, con un grande piacere della mia consorte, la valigia è pronta perché domani mattina volerò a Bruxelles al Parlamento Europeo dove insieme agli amici di Samaritan International che è l'organizzazione europea di protezione civile andremo a fare la relazione conclusiva del progetto FLUD, appunto esondazione che come già noto ha visto impegnato l'Italia, Ampas nazionale, in particolare i volontari bergamaschi e della Croce Blu di Gromo sulla realizzazione, mantenimento, cura e formazione relativa alla pompa ad alta capacità ovvero l'idrovora capace di svuotare 10.000 litri ogni minuto Io per la verità rimango qui perché devo preparare comunque altri materiali da poter inviare sto seguendo un po' quello che è l'organizzazione del campo giù io avevo fatto il capocampo, chiaramente venendo via ho dato le consegne a un'altra persona che ha preso in mano un po' la situazione è chiaro che comunque pur essendo rientrato non è che il lavoro è finito anzi, ad esempio oggi abbiamo coordinato l'arrivo di un camion, cioè una cella frigorifera di grandi dimensioni in modo che potesse arrivare al campo e iniziare a stipare un po' tutto quello che sono le derrate alimentari cosa che prima le avevamo in più celle piccole e quindi non era fattibile questo sistema inoltre al campo abbiamo fatto arrivare anche delle grelle che sono quelle delle piastrelle di plastica che ci permettono comunque di isolare quello che è il terreno all'interno della terza struttura dove i civili mangiano, i volontari mangiano in modo che è un attimino più igienico, più corretto e più funzionale